Quindi pertanto sollecito tutti i produttori agricoli, tutti gli agricoltori del Belice, ma anche tutte le altre forze lavoratrici a essere presenti domani al presidio in occasione della visita di una visita importante istituzionale, l'onorevole Luca Sanmartino, assessore regionale di cultura, nonché vicepresidente della regione siciliana. E' un appello ai produttori agricoli ad essere presenti domani mattina, quello formulato da Gaspare Lamarca, portavoce del movimento spontaneo di agricoltori e allevatori della Valle del Belice, che del 5 febbraio ininterrottamente tiene in piedi uno degli ultimi presidi che nelle settimane scorse hanno caratterizzato la cosiddetta protesta dei trattori. Sappiamo già che domani hanno adorito a essere presenti, saranno presenti alcune scuole, istituti tecnici, istituti professionali a indirizzo agrario e saranno presenti pure associazioni culturali. Quindi c'è un grande interesse a essere presenti domani e rinnovo l'appello a tutte le forze lavoratrici, non solo del settore agricolo, a essere presenti domani a questa assemblea, che è un'assemblea che certamente sarà all'insegno della democrazia, del libero confronto e del confronto dialettico e del democratico dialogo fra le forze lavoratrici e i rappresentanti istituzionali. L'arrivo al presidio di San Martino ha un valore anche simbolico, più volte richiesto dagli stessi produttori agricoli che si sono rifiutati di recarsi al tavolo tecnico istituzionale, ritenendo che le organizzazioni di categorie tradizionali abbiano un'estrema sintesi tradito al loro mandato di rappresentanza, si è rivelata decisiva la mediazione degli 11 sindaci della zona che hanno convinto il vicepresidente della regione a raggiungere il bivio di Contrada Gulfa. Come Movimento abbiamo già preparato una relazione con diversi punti da porre alla sua attenzione, quindi le nostre istanze, le nostre ripendicazioni, di cui gli chiediamo di attenzionarle e di farsene pure carico specialmente a livello regionale. Per quelle che magari non si ritengono di sua competenza, perché sono istanze da presentare al governo nazionale e al Parlamento europeo, gli chiediamo pure di farsene portavoce e presentarle. Quindi domani è una giornata, ritengo, importante. E mentre alla Gulfa continuano gli incontri con studenti ed esperti, l'ultimo è stato ieri sotto riflettore all'importanza dei prodotti agricoli al chilometro zero, i comitati spontanei uniti di agricoltori e allevatori, anche gli stessi pescatori della Sicilia e Terranea, una manifestazione sempre domani a Palermo, annunciato un corteo che si snoderà da Piazza Marina fino a Piazza Indipendenza, manifestanti i quali, pur apprezzando gli interventi del governo sul potenziamento delle reti idriche, chiedono l'istituzione di un fondo di garanzia regionale per le aziende agricole che subiscono ritardi dei pagamenti, mentre al governo nazionale chiedono l'intensificazione dei controlli sui prodotti importati dai paesi extraeuropei, con adeguamento del regime sanzionatorio e creazione dei presidi fissi dei NAS in tutti i porti italiani per controllare la qualità dei prodotti agricoli in transito. Sul fronte della pesca e promotori della manifestazione chiedono il credito d'imposta del 35% sul gasolio, i pagamenti dei fermi pesca obbligatori in tempi certi e celeri, il riconoscimento di un compenso economico per il periodo di fermo pesca obbligatorio previsto per il sistema di pesca strascico.